Si è svolta il 26 ottobre a Palazzo Lascaris la prima seduta del Consiglio delle Autonomie Locali, aperta dal Presidente Carlo Riva Vercellotti alla presenza dell'Ufficio di Presidenza al completo. L'Assemblea ha inaugurato i lavori esprimendo parere favorevole all'unanimità su due proposte di deliberazione della Giunta regionale, illustrate dall'assessore al bilancio Giovanna Quaglia in merito all'attuazione del Patto di Stabilità Interno 2011. Sentiamo il Presidente Carlo Riva Vercellotti. Parte oggi il Consiglio delle Autonomie Locali con il suo nuovo Ufficio di Presidenza che si è già riunito, mi sembra che il clima sia assolutamente positivo, un clima costruttivo e la voglia di far sì che il sistema delle autonomie locali possa essere davvero utile alla Regione per creare un sistema partecipato, cioè quindi un sistema di decisioni che nasca non dall'alto ma dal basso affinché ci sia sempre più importanza e valore per i comuni, per le province e per tutto il sistema dell'autonomia locale piemontesi.